Ciao a tutti, sono Harry e benvenuti sul mio canale! A quanto pare i miei amicini non hanno di meglio da fare che trapanare un muro alle 9 e un quarto di mattina. Io non so più a chiare a registrare los videos! Potreste fare più piano? Grazie! Ciao a tutti, sono Harry e benvenuti sul mio canale! Dopo il successo di io che scrivo a persone utilizzando il loro nome all'interno di conversazioni su Messenger e dopo il successo di io che parlo col mio telefono da solo utilizzando Siri Madonna, dicendo sti titoli mi sento una persona davvero triste! In questo video ci sarò io, beh anche altro, che parlerò praticamente con me stesso e parlerò utilizzando delle canzoni Madonna, i miei video... Tipo, se tu dovessi raccontare il mio video a qualcuno che non ha mai visto un mio video sembrerebbe così deludente! Niente, ci vediamo... No, aspetta! Iniziamo col video! Ehi, psst! Qual è il risultato del problema 5? Non ci ho capito niente! Perché parlerli così piano? Guarda che la prof è laggiù e mica ti sente Mamma mia, ho un solito simpatico! E invece la risposta del problema numero 10? Ragazzi, ho riportato le verifiche corrette come sempre ci sono quelli che sono andati benissimo e quelli che sono andati molto male come sempre Ecco, Bob, la sua verifica Oddio, un altro 10! Grazie mille, brof! Mecozzi! Grazie! Mi dispiace, caro, ma... No, vabbè, ma quant'è bella sta camicia! Ma aspetta... Ma non c'è prezzo? Scusi, potrei sapere il prezzo di questa? Sa, non c'è il... Sono 163 euro, prego! Solo questa? Seriamente? Vabbè! Cordialissima, grazie mille! Non ti sto capendo! Quindi stasera andiamo in discoteca? Sì, certo che ci andiamo, ma scusa, cos'hai detto a tua madre per convincerla? Ho detto a mia madre che andavo a dormire a casa di un'amica, di un'altra mia amica... Ma sei sicuro che ci cascherà? Ma sì, figlio, ti vedrei che andrà tutto! All right, all right, ok, all right, ok... Ok, all right, scusate... Ah, chiamiamolo no? Eeeh, dai 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 dai, rispondi, 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 da da da! Dimmi, cosa c'è? Oh, metti il viva voce! Perché mi hai chiamato? Ok... A casa di un'amica, di un'altra mia amica Mamma, ti metto un attimo in pausa perché mi sa che c'è un po' un'interferenza, arrivo subito Mi sa che ti conviene Eh, ok mamma, diciamo che stasera in realtà dovevo andare in discoteca Però dai, dato che sono stato sincero, non è che posso andarci lo stesso Arrivo Hey Ophelia No, veramente Tu riesco a chiederti indietro il mio bidone portatile Ah, ecco a te, scusa Bene ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video, spero di avervi tenuto compagnia e spero di avervi fatto ridere almeno un pochettino Come tutte le volte vi ricordo che per la prossima parte di questo video dobbiamo far arrivare questo video qua a 2000 mi piace e 20.000 visualizzazioni Quindi andate subito a mettere un bel mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, non so come ci si iscriva però iscrivetevi a questo canale, ok? E condividete questo video con tutte le persone che ascoltano la musica, quindi praticamente condividetelo con tutti Vi ricordo tutti i miei vari social, ossia Instagram, Facebook, Snapchat e Musical.ly So you have to follow me Non credo di dover dire nient'altro A parte che tipo io sto girando questo video prima di Natale Ma voi lo vedrete dopo di Natale Dopo di Natale, vabbè Voi lo vedrete dopo Natale Quindi tanti auguri di buon Natale In ritardo comunque auguri di buon Natale Ci vediamo al prossimo video Che sarà probabilmente il prossimo anno Oh mio Dio Ciao